Ciao a tutti e bentornati con questo nuovo video, oggi siamo qua con un video un po' particolare da solito sia per la location che non vi voglio spoilerare tutto ma la vedremo nei prossimi video quello che voglio farvi vedere oggi invece è questo prodotto qua che personalmente è un prodotto che è fantastico cioè costa un botto di soldi perché costa quasi 1300 euro ma è una power bank della All Powers veramente grossa che vi permette di avere corrente anche nei punti dove effettivamente ad esempio questo garage non è dotato di corrente e lei ve la fornisce, prima di tutto prima di andarla a vedere voglio farvi vedere un po' le caratteristiche caratteristiche che secondo me sono veramente ottime, infatti se riusciamo a mettere a fuoco, ok ci siamo riusciti è una batteria a litio quindi consigliano sempre di fare la famosa ricarica a 20-80% capacità di 405.405 mAh 3.7V per un totale di 1500Wh peso approssimativo di 14,5 kg quindi non è assolutamente piccola per quanto riguarda le dimensioni troviamo un 37.5 cm x 24,5 x 25 cm ed è una capacità complessiva di 1500W come potenza che non è assolutamente male e supporta dei pannelli solari XT60 fino a 650W quindi davvero ottima per quanto riguarda l'output noi abbiamo un'uscita continua di 2400W e una aggiuntiva di 4000W invece per quanto riguarda la porta di ricarica perché questa batteria qua è compatibile anche con i camper è una 13V a 10A per quanto riguarda invece le altre uscite vediamo tutte le varie informazioni perché è dotata anche di porte USB porta USB che sono 5V 2.4A e poi abbiamo la porta Type-C dove possiamo caricare i nostri dispositivi fino a 100W quindi possiamo supportare anche i recenti MacBook prima di vedere la batteria però vediamo cosa c'è al suo interno così vi faccio vedere due informazioni al volo al suo interno troviamo la loro garanzia che tra l'altro sono anche molto gentili ho notato che anche chiamandoli chiedendo informazioni comunque vi aiutano e si attiva la garanzia seguendo questo foglio qua che vi danno loro con tutte le indicazioni che adesso possiamo togliere e al suo interno togliendo la plastica loro ci forniscono prima di tutto un kit un kit dove al suo interno sono presenti tutti i vari cavetti vediamo se riesco ad aprirlo senza distruggere nulla dei cavetti con tutti i vari connettori che possono essere utilizzati tra cui il cavetto Shuko che è il cavetto che viene utilizzato per poterla caricare la batteria quindi avete modo comunque sia di caricarla senza problemi poi troviamo il cavetto per poterla collegare dei pannelli solari quindi se avete dei pannelli solari e li volete collegare lo potete tranquillamente fare tramite questo cavetto qui quindi non ci sono assolutamente problemi e poi al suo interno troviamo il cavetto per poter alimentare attraverso l'accendisigari della macchina quindi assolutamente un prodotto funzionale per quanto riguarda invece il resto troviamo una semplice custodia nella quale possiamo utilizzarla per poter proteggere la power bank nel momento che effettivamente dovesse piovere o dovessero esserci delle condizioni climatiche che non permettono l'utilizzo passando alla parte sicuramente quella più importante vedete come sia costruita in maniera molto efficiente vedete come è presente anche due ventole in realtà perché non è una una ventola esterna e una ventola dall'altra parte quindi è un sistema di dissipazione ottimo e poi al suo interno vediamo le funzionalità più importanti quattro porte sciuco da 230 volt 2400 watt quindi perfette per poter alimentare in questa prova che sto facendo io un ventilatore e abbiamo modo anche di alimentare la luce che è presente lì sopra quindi possiamo anche accendere una lampadina led per quanto riguarda il resto quello che possiamo vedere da tutte queste informazioni qui è che è presente una porta questa è la porta famosa che vi dicevo per quanto riguarda il camper che si apre in questo modo qua vediamo se si riesce penso di sì comunque questa è la porta per poter alimentare un camper porte type C quindi abbiamo delle porte type C che ci permettono di collegare dei dispositivi fra cui anche un macbook, un telefono, un iphone o quant'altro qualsiasi dispositivo quattro porte usb A quindi possiamo collegare anche qui molti dispositivi abbiamo il pulsante di accensione che adesso andiamo ad accenderla bisogna tenere premuto fino a quando non si accende ci dà veramente tantissime informazioni abbiamo la possibilità di selezionare AC poi e DC in base a quello che stiamo utilizzando AC sta per corrente alternata e DC per corrente continua per quanto riguarda invece il cavetto dei pannelli solari XT60 è un connettore generico quindi potete utilizzare diversi pannelli per cui quelli forniti dall'azienda e lo fa senza problemi porta questa qua è quella inglese quindi potete inserire anche qui eventualmente un adattatore e sostanzialmente questa è la batteria prima di vederla in funzione vedete possiamo prenderla e alzarla dalle parti laterali non è leggerissima però vi posso dire che ad esempio se dovessimo caricare la Tesla per quanto riguarda una macchina elettrica giusto per citarne una lei riuscirebbe a fornirci corrente per 14 km ovviamente non sono tantissimi 14 km ma bisogna anche tenere conto che comunque è una batteria supplementare d'emergenza io personalmente non la porterai mai in giro in macchina per il semplice fatto che comunque ti porti dietro 15 kg però in determinate situazioni può tornare utile vediamo come qui si veda la batteria quindi il simbolo della batteria la percentuale di batteria che in questo caso qua è 54% e questo è un valore molto importante perché questo valore qui ci indica quante ore rimangono alla batteria in base all'accumulo che sta ottenendo in quel preciso momento infatti se noi adesso andassimo ad accendere il ventilatore però vorrei prima accendere la luce che secondo me è quella che dà meno fastidio perché il ventilatore poi dopo distorce molto l'audio noi l'accendiamo in questo caso qua vedete non si accende non si accende per un semplice motivo e non è perché non funziona ma perché la batteria ha bisogno di essere attivata con corrente alternata o corrente continua noi mettiamo la corrente alternata vedete come si è accesa quindi adesso noi lo sentite dalla ventola ha iniziato ad andare la ventola e si è accesa anche la luce come potete vedere lui è un garage dove non è presente la corrente ma tramite questo connettore qua tramite l'asciugo si può alimentare questo vi fa anche vedere una cosa molto importante che noi possiamo vedere dalle impostazioni della batteria quanto sta effettivamente acquisendo in questo momento qua in questo momento sta prendendo il 43 watt quindi con 43 watt 42 con il 54% di batteria noi possiamo farla andare per circa 15 ore 50 adesso è molto variabile perché dipende da quanti watt sta acquisendo però circa abbiamo 16 ore di autonomia col 54% quindi tendenzialmente potremmo avere circa 28 ore complessive di autonomia del dispositivo e l'unico rumore che sentite è la ventola che sta funzionando questo è per tenere le batterie in temperatura e non rovinarle come sempre è consigliato caricare 20-80% per non danneggiarla essendo comunque batterie a litio che per quanto siano sicuramente funzionanti in maniera molto più efficiente però comunque sono sempre batterie a litio quindi bisogna prendersene sempre cura e adesso se volessimo fare la prova del 9 accendiamo anche il ventilatore e vediamo quanto va ad acquisire come vedete siamo già passati a 81 watt 81 watt che questo purtroppo porta ad usare la batteria a 8 ore e 40 ma stiamo veramente alimentando tutto tenete conto che se abbiamo 8 ore e 40 con il 54% con una batteria completa siamo circa attorno ai 14 ore 14 ore consecutive fra una luce da 40 watt e una batteria con un ventilatore anche qui c'è poi da tenere conto un altro discorso che nel momento che voi andate a disattivarla la batteria va in una sottoforma di stand by stand by che effettivamente dice che per 696 ore il dispositivo può rimanere collegato come vedete da queste informazioni qua questo sostanzialmente è un prodotto che non è che fornisce funzioni magiche però è quel prodotto che torna utile nel fattore bisogno è quel prodotto che ad esempio nel mio caso nel fatto del garage che il garage non ha una batteria non ha una corrente continua mettendo una power bank simile io posso fare tutti i miei lavori senza problemi e davvero riesco a farlo in maniera efficiente quindi posso anche alimentarci un monitor posso alimentarci un computer ovviamente il computer consuma molto di più quindi l'autonomia sarebbe molto ridotta ma se noi dovessimo pensarla che siamo in un campeggio ci serve la corrente usiamo questa power bank attacchiamo dei pannelli solari attaccando i pannelli solari noi riusciamo a utilizzare 400 watt dai pannelli così che questa power bank praticamente non viene mai utilizzata bensì si riesce anche a ricaricare in quel momento lì il prezzo è attorno ai 1200 euro con codice coupon mio riuscite comunque a prenderla sui 1000 euro una power bank che personalmente è una delle migliori ringrazio tra l'altro All Powers che me ne ha mandate ben due per questo progetto qua nel garage che adesso non vi voglio spoilerare vi faccio giusto vedere qualcosa al volo che ancora non è finito è solo in fase di assemblaggio vedete quanta roba ci sia in giro ma questo prodotto per quello che viene utilizzato è davvero un prodotto molto molto fenomenale poi tra l'altro è possibile controllarlo anche dall'applicazione dedicata e quindi avrete modo di poterlo seguire direttamente dall'applicazione di All Powers detto ciò spero che il video sia stato di vostro credimento se lo è stato vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se già non l'avete fatto vi faccio vedere una panoramica della power bank e ci vediamo alla prossima con un nuovo video sul canale ciao a tutti grazie mille